E' morta nonna Peppina, simbolo del terremoto che colpì il centro Italia. Cinque anni fa se n'è andata nella casetta di legno all'età di 98 anni. Lanciano fumogeni e aggrediscono un dirigente, allarme e violenza anche nel calcio giovanile. Polizia ha lavoro per individuare il responsabile. Rischia la vita dopo il vaccino antivaiolo, ma le viene negato l'esonero. Siero anti-covid arriva la spiegazione del dirigente dell'Azure, Augusto Oliverani. Non c'è alcuna controindicazione a detto, molte richieste di esenzione sono inappropriate. In arrivo, nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà. Il Comune di Fano e l'Ambito Sociale 6 mettono in campo 450 mila euro per affitti, buoni spesa e casi di disagio economico e sociale. Green Pass, sui treni cambiano i controlli. Le nuove regole trovano d'accordo la maggior parte dei pendolai. Molto importante per il bene di tutti. Infatti questa mattina non ce l'hanno controllato, ma il treno lo farà. Speriamo. La voce dell'anima di Ruggero Ruggeri rivive a Palazzo Bracci Pagani. Si inaugura domenica la mostra dedicata al grande attore nato a Fano 150 anni fa. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai nostri titoli. È morta oggi nonna Peppina, il simbolo della resilienza dei terremotati. L'anziana, al secolo Giuseppa Fattori, avrebbe compiuto 99 anni il 26 novembre. Viveva a San Martino di Fiastra, in provincia di Macerata, dove cinque anni fa aveva rifiutato di lasciare una casetta di legno realizzata nelle vicinanze della sua abitazione, ridotta a un cumulo di macerie a causa del sisma. La casetta era stata dichiarata abusiva, ma poi era stata sanata dalla legge Salva Peppina. L'anziana, nominata commendatore della Repubblica dal presidente Mattarella lo scorso febbraio, aveva comunque fatto in tempo a vedere l'inizio dei lavori per la ricostruzione della sua vera casa. Spero di poterci andare a vivere almeno per un giorno, aveva detto all'Ansa l'avvio dei lavori cominciati a dicembre 2020, dopo quattro anni molto difficili. Nonna Peppina è morta questa mattina nella casetta di legno, che non aveva più lasciato ormai da mesi. Ancora cronaca, sono in corso i controlli da parte degli agenti del commissariato di Urbino per individuare i responsabili che sabato 13 novembre hanno lanciato fumogeni durante la partita di calcio Urbino-Fermignano, categoria Juniors. Inoltre un gruppo di tifosi ospiti ha esposto uno striscione offensivo nei confronti della squadra di casa per poi tentare di accedere agli spogliatoi. Il tutto è culminato con l'aggressione ad un dirigente della società Orbinate e con l'invito, fortunatamente non accolto, diretto ad alcuni giocatori della squadra di casa a partecipare ad un regolamento di conti la sera stessa in una discoteca dell'entroterra. All'arrivo delle forze dell'ordine i tifosi si sono dati alla fuga, ora la polizia continua le indagini per individuare i responsabili dei disordini. Adesso la sanità dal governo è arrivata la nuova stretta sui trasporti, il controllo del Green Pass deve essere effettuato non solo a bordo dei treni ma anche a terra prima di salire e se c'è un caso sospetto di positività al Covid le autorità possono decidere di fermare il convoglio. Angelica Panzieri oggi ha chiesto ai pendolari che cosa ne pensano di questa nuova ordinanza. Controllo del Green Pass anche a bordo dei treni in Italia e possibilità di fermare un convoglio se a bordo del treno c'è un sospetto caso di Covid e una delle novità annunciate nella nuova ordinanza emessa dal Ministero dei Trasporti in accordo con il Ministero della Salute, secondo la quale il Green Pass da ora andrebbe controllato a terra dunque prima di salire a bordo del treno ma qualora questo non fosse possibile il controllo può essere effettuato dal personale di bordo insieme al controllo del biglietto di viaggio si legge nel testo dell'ordinanza. E ancora in caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid si legge sempre nell'ordinanza, la Polizia Ferroviaria e le autorità sanitarie devono essere prontamente informate all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento o prevedere appositi spazi dedicati. L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio. Una presa di posizione, quella del governo, che sembra trovare d'accordo anche i pendolari. Secondo me è giusto comunque controllare per comunque far stare in sicurezza la persona e la famiglia però è anche brutto magari per una persona che deve tornare a casa, dover stoppare le corse. Questa mattina gliel'hanno controllato? No, penso la stessa cosa. Penso che comunque è molto importante per il bene di tutti e quindi dovrebbero controllarlo a prescindere se si è sul treno, se si è fuori, ovunque si va. Infatti questa mattina non ce l'hanno controllato ma... Ma sul treno lo faranno? Speriamo. Penso sia un'iniziativa giusta e ci fa viaggiare più sicuri. Lei il treno lo prende spesso? Sì, essendo pendolare faccio spesso Pesaro-Milano. Il Green Pass ce l'ha? Sì. Stamattina non gli è stato controllato? No, per ora ancora no. Sono d'accordo e penso che possa essere una misura preventiva per prevenire appunto un possibile peggioramento e diffusione dei contagi e quindi una possibile nuova reclusione. Secondo me sul Frecciarossa che magari è un treno a parte alta velocità che fa una tratta più lunga è corretto. Ah, sui regionali non li controllano. Secondo lei questo è giusto oppure no? In realtà la tratta è lunga anche sul regionale quindi dovrebbero controllarlo anche lì, però non lo fanno, non so il motivo, però secondo me sì sarebbe giusto. E sono tre i decessi legati al coronavirus che si sono verificati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Si tratta di due uomini, di una donna di età compresa tra i 76 e gli 89 anni. Tra le nuove diagnosi invece i positivi sono 390, di cui 128 nella provincia di Pesaro-Urbino. Negli ospedali della regione ci sono due ricoveri in più rispetto a ieri per un totale di 88. Cala lievemente il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre aumenta quello dei degenti in semi-intensiva. E in una nota oggi la regione Marche ha precisato che da lunedì la terza dose non potrà essere prenotata dai caregiver a prescindere dall'età, come aveva annunciato ieri, ma solo dagli over 40 come indicato anche dal Ministero. Ed ora torniamo a parlare dello sfogo e della rabbia di Liana Pieragostini, che si è vista negare l'esonero dal vaccino anti-Covid dopo aver rischiato la vita da piccola a causa del siero antivaiolo. Oggi il dirigente medico dell'Ausur, Augusto Liverani, ci spiega il motivo del diniego e fa chiarezza su chi invece può beneficiarne. Era entrata in coma all'età di due anni a causa di una encefalite post-vaccino antivaiolo. Era stata definita una miracolata Liana Pieragostini, 54 anni di pergola, che da allora non ha più ricevuto nessun siero, nemmeno quello dell'antitettanica. Ad ottobre aveva richiesto all'Ausur l'esonero dal vaccino anti-Covid perché non vuole rischiare di nuovo la vita, ma nonostante la documentazione sanitaria inoltrata al dottor Liverani, le è stata data una risposta negativa. Oggi a rispondere su Fano TV è proprio il direttore del servizio di igiene, sanità pubblica e prevenzione delle malattie infettive dell'area Vasta 1. Perché non è stato concesso l'esonero alla signora Liana? La certificazione di esenzione alla vaccinazione Covid viene rilasciata dal medico del centro vaccinale dell'azienda sanitaria oppure da un medico di medicina gerale che aderisce alla campagna vaccinale nazionale sulla base di una documentazione clinica che rappresenti una controindicazione alla vaccinazione. Per la signora non è stata ravvisata alcuna controindicazione della vaccinazione e quindi non è stata concessa la certificazione di esenzione. Però nella documentazione da lei fornita risulta una encefalite provocata dal vaccino? Esattamente, la signora ha prodotto questa documentazione di questa reazione avversa al vaccino contro il vagliolo. Il vaccino contro il vagliolo che ormai non viene più somministrato da molto tempo era un vaccino costituito dal virus del vagliolo bovino che una volta inoculato nell'organismo induceva una infezione subclinica che però era in grado di evocare un'ottima risposta immunitaria contro il vaccino del vagliolo umano. Era un vaccino che però poteva avere delle reazioni avverse anche importanti ad esempio l'encefalite post-vaccinale veniva stimata in un caso ogni 300.000 vaccinati però in quel contesto storico questo rischio di reazioni avverse era giustificato in base al peso, all'impatto che aveva la malattia. Non dimentichiamo che il vagliolo nel 1900 ha sterminato centinaia di milioni di persone con una letalità superiore al 30%. E oggi invece quali sono le controindicazioni al vaccino? Guardi, le controindicazioni al vaccino ad RNA contro il Covid sono veramente poche e cioè la reazione allergica grave a una precedente somministrazione oppure una ipersensibilità, cioè un'allergia documentata ad un componente del vaccino. Oltre a queste, prosegue Liberani, ci sono anche altre condizioni che prevedono un aumento del rischio di reazioni avverse per le quali il medico vaccinatore deve mettere in atto una valutazione sul rapporto rischio-beneficio che nella maggior parte dei casi, spiega Liberani, depone a favore del secondo. Può essere per esempio una precauzione se un soggetto riferisce una storia di shock anafilattico ad un'altra sostanza somministrate per via iniettiva. In questo caso si configura una precauzione, il soggetto viene invitato a prolungare il periodo di osservazione post-vaccinale. Oppure una persona che dopo una dose di vaccino a RNA messaggero ha sviluppato una pericardite o una miocardite. In tal caso si consiglia una consulenza cardiologica e non è preclusa la somministrazione della seconda dose. Si può tener conto del suggerimento del cardiologo soprattutto per quanto riguarda il timing di somministrazione della seconda dose, quando la lesione miocardica o pericardica è guarita. Ravvisate molti casi e richieste di esenzione dal vaccino anti-Covid? Le richieste di esenzione alla vaccinazione Covid sono molte ma devo dire che nella maggior parte dei casi sono completamente inappropriate perché non riportano controindicazioni reali alla vaccinazione. Una ciclista è stata investita da un'auto oggi pomeriggio intorno alle 18.30 nella rotatoria tra via Forcolo e via Papini a Rosciano di Fano. Sul posto, come vedete da queste immagini, sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale di Fano per i rilievi di legge. E dopo gli aiuti per l'Atari, il comune di Fano mette a disposizione ulteriori risorse per le famiglie in difficoltà sia per gli affitti sia per i buoni spesa ma in quest'ultimo caso soltanto per chi non era rientrato nel bando dello scorso settembre-ottobre. Abbiamo 220 mila euro da mettere a disposizione per coloro che non sono riusciti a far domanda in quel periodo quindi sono stati in qualche modo esclusi non sono riusciti nei tempi consentiti a presentare anche l'Isee perché è importante anche l'Isee come condiviso con i sindacati dall'altra l'amministrazione comunale mette a disposizione 165 mila euro per integrare le risorse della regione sul bando degli affitti quindi per il sostegno al pagamento del canno di locazione anche lì ci sono due fasce di Isee quella massima è fino a circa 12 mila euro e anche lì rispetto all'anno scorso abbiamo avuto tra l'altro più domande perché l'anno scorso erano 328, quest'anno 390 poi adesso vedremo quali saranno gli effettivi beneficiari l'ultimo esce proprio oggi il bando esce il 19 e la domanda scade poi il 15 dicembre il bando a sostegno delle famiglie e cioè utilizziamo le risorse della legge 30 trasferite dalla regione legge 30 sulle famiglie sono risorse queste d'ambito mentre i primi due sono risorse solo del comune di Fano queste sono risorse di tutto l'ambito sono 66 mila euro e che vanno a finanziare interventi di sostegno alle famiglie in disagio economico e sociale soprattutto famiglie monoparentali, separati o famiglie numerose oppure famiglie in cui ci sono figli minori oppure famiglie in cui uno dei due genitori è deceduto si può fare domanda tramite PEC e tramite lettera raccomandata mentre per quello che riguarda i buoni spesa si utilizza la procedura telematica e quindi occorre l'accreditamento tramite lo SPID l'identità digitale Circa 90 mila euro per oltre 50 realtà sportive il bilancio dell'operazione bonus palestra il contributo che il comune di Pesaro ha stanziato per aiutare le realtà economico sportive del territorio particolarmente colpite durante la pandemia un messaggio importante hanno sottolineato il sindaco Ricci e l'assessore della Dora rivolto ad un settore che è fondamentale per la qualità della vita dei cittadini Cambiamo argomento Dopo il caos sul trasporto scolastico provocato a settembre dalla Tundo con gravi disservizi agli studenti la Lega Fano oggi ha chiesto al comune non solo di controllare l'idoneità degli scuola bus utilizzati ma anche il perché non sia stato ancora revocato il contratto con quell'azienda La Lega Fano chiede all'amministrazione comunale di fare chiarezza sul caso della Tundo La Tundo è una società che ha in carico la gestione del servizio per portare i nostri figli a scuola tutti i giorni e andarle a riprendere per riportarli a casa Dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto da tantissimi genitori sappiamo che la Tundo oltre a essere inadempiente nei confronti dei propri dipendenti perché sappiamo che manca ormai da diversi mesi il pagamento degli stipendi ci sono anche delle situazioni addirittura di grave pericolosità per i mezzi che vengono utilizzati La sicurezza dei nostri figli viene prima di tutto viene prima della politica viene prima dei soldi viene prima dell'assegnazione delle gare d'appalto chiediamo all'amministrazione comunale che controlli tutti i mezzi uno per uno devono essere controllati perché dobbiamo avere la sicurezza che questi siano i doni alla circolazione chiediamo anche il motivo per il quale ad oggi non sia stato revocato il contratto perché sappiamo che altri comuni hanno revocato il contratto appunto che era scritto alla Tundo per poi scegliere un'altra azienda che invece riesca a garantire il servizio Il Comune di Fano precisa che il servizio è assegnato alla ditta Tundo fino al 31 agosto 2022 sulla base della gara d'appalto unificata realizzata sei anni fa dalla provincia di Pesero Urbino un contesto giuridico e contrattuale quindi differente da quello del Comune di Pesero il cui rapporto con la ditta discende invece dalla gara d'appalto realizzata nel 2020 dalla Regione la quale ha revocato di recente all'assegnazione per tutti i lotti che vedevano prima aggiudicatare la ditta leccese fatta questa premessa il Comune di Fano prosegue la nota monitora costantemente il servizio anche con l'apporto dell'avvocatura comunale e sta intervenendo con la surroga degli stipendi arretrati dovuti ai 12 autisti dell'attundo operanti sul territorio di Fano il monitoraggio è esteso anche ad assicurazioni, revisioni e manutenzioni nella nota si sottolinea anche che dal primo giorno di scuola a Fano a differenza di altri comuni il servizio scuola bus è sempre stato garantito senza interruzioni su tutte le linee e sempre Fano continua a celebrare il 150esimo anniversario della nascita di Ruggero Ruggeri domenica la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano inaugura una mostra a Palazzo Bracci Pagani che è la casa natale del grande attore fare luce sul personaggio sulla sua storia e sulla sua straordinaria vicenda artistica che lo ha portato a calcare i palcoscenici di Mezzomondo è l'intento della mostra l'area di casa di vagazioni video-foto biografiche su Ruggeri nella casa natale esposizione dedicata a Ruggero Ruggeri curata da Dante Piermattei che la Fondazione Carifano ha organizzato per celebrare il 150esimo anniversario della nascita dell'attore Ruggeri nacque a Palazzo Bracci Pagani 150 anni fa nel novembre 1871 e nel Palazzo Fanese ora di proprietà della Fondazione Carifano respirò la prima aria della sua vita da ciò deriva il titolo della mostra che conta circa 30 pannelli illustrativi con foto di scena immagini e notizie biografiche raccolte da materiale documentario fra 8 e 900 ma anche estratti da audiovisivi per rivivere l'arte teatrale del grande attore prediletto di Pirandello Ruggeri oltre che per l'arte drammaturgica che aveva e che ha portato nei palcoscenici di Mezzomondo è rimasto celebre per un particolare tipo di recitazione di voce, di registro vocale che adoperava non era più quello che declamava come si faceva nell'ottocento diciamo no? diciamo il mattatore ma era uno che appunto portava con questa voce a sua dente diciamo sempre impostata bene è stata chiamata la voce dell'anima l'hanno definita quella di Ruggeri al punto che nei celebri film di Don Camillo la voce del crocifisso è la voce di Ruggero Ruggeri quando lui già era anziano vecchio ottantenne la proiezione di alcuni filmati dove si può vedere lui che recita e soprattutto lo si può ascoltare con questa particolarissima voce che non ha non ha paragoni insomma rivolta soprattutto ai più giovani per permettergli di conoscere l'importante figura di Ruggero Ruggeri la mostra che si terrà a Palazzo Bracci Pagani sarà inaugurata il 21 novembre alle 17.30 e sarà visitabile fino al 6 gennaio 2022 dalle ore 17 alle 19 tutti i giorni tranne i lunedì e nei giorni di Natale e Capodanno l'esposizione è parte dell'ampio programma di iniziative Stefano Corruggeri attore ideale di Pirandello allestito in collaborazione con numerosi soggetti istituzionali della città questa iniziativa entra in un contesto ben più ampio di tutta una serie di celebrazioni che passano attraverso tutta una serie di attività di eventi che ci accompagneranno anche nel corso del prossimo anno insieme ad altri compagni di viaggio che sono la Banca di Credito Cooperativo l'Amministrazione Comunale La Rocca e l'Associazione La Rocca e la EASET oltre alla Fondazione Teatro della Fortuna è una iniziativa condivisa con questi altri attori che vede anche un'attività che prosegue rispetto a quella che abbiamo realizzato con Dante per il settecentesimo anniversario una banca del territorio che quindi pur essendo stata costituita nel 1911 quindi forse successivamente a quella che poi era la partenza anche di questo grande attore che ha le origini e che ha quindi i Natali qui nella nostra città però abbiamo ritenuto di aderire a questa iniziativa perché è un valore per il nostro territorio e ci spostiamo al Pincio di Fano dove questa mattina i bambini hanno celebrato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia Con il brano Stai con me un totem dei diritti cartelli e attività ludiche circa 200 bambini di 16 classi quinte delle scuole primarie della città hanno animato il Pincio di Fano celebrando la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia a guidarli e a intrattenerli i maestri Giorgio Caselli e Matteo Santini non ha voluto far mancare la sua presenza al sindaco di Fano Massimo Seri che ha tenuto per sé la delega alla città delle bambine e dei bambini è veramente una bella giornata è proprio vero che quando ci sono i bambini con la loro gioia fanno arrivare il sole si è trasformata questa giornata ma soprattutto è bella per il significato che ha per i valori che vengono richiamati oggi si celebra la Convenzione del diritto del bambino che ha una coincidenza il 27 maggio 1991 veniva ratificata al Parlamento Italiano e nello stesso tempo a Fano si celebrava la nascita della Fano città dei bambini quindi è una coincidenza che per me non è casuale perché questa giornata che vuole celebrare il diritto al gioco che è un diritto universale che io di frenei quasi un dovere perché i bambini devono giocare e quando non possono farlo è un delitto e noi non lo possiamo consentire purtroppo sappiamo che ancora nel mondo ci sono tanti bambini che non possono vivere la loro fanciullezza questo sta in questo bel progetto della Fano città dei bambini che ha un valore importante ma un valore di città una città che è a misura di tutti quando noi prendiamo il bambino come paradigma quindi se una città è a misura di bambino che è la figura sotto certi aspetti più fragile vuol dire che è una città per tutti e noi questo che vogliamo è una città per tutti dopo i saluti istituzionali la piccola Giulia ha presentato il consiglio delle bambine e dei bambini sono seguiti giochi in quattro aree del Pincio grazie alla collaborazione di diverse associazioni del territorio e con i bimbi divisi in gruppi nel rispetto delle norme anti-covid la mattinata si è conclusa con una camminata verso i passeggi denominata la marcia di diritti daremo a tutti un attestato di partecipazione finalmente siamo potuti tornare all'aperto avete visto che bei lavori che hanno fatto anche con l'aiuto delle insegnanti oltre che col consiglio dei bambini ci sono dei cartelli molto belli e molto significativi su tutti i diritti i bambini sono stati abbastanza colpiti insomma durante la pandemia isolati con l'impossibilità di incontrare gli amici di andare a scuola quindi per questo sono particolarmente entusiasti e siamo molto contenti di offrire loro oggi questa giornata e uno due tre quattro andiamo bravissimi invece in occasione della giornata nazionale degli alberi che si celebra il 21 novembre i carabinieri forestali doneranno a 56 scuole delle Marche gli alberi per il futuro l'iniziativa ha l'obiettivo di rendere gli studenti consapevoli dell'importanza del ruolo delle piante e della funzione che le foreste esercitano per il contenimento dei cambiamenti climatici e per la conservazione dell'ambiente nello specifico lunedì 22 i carabinieri forestali consegneranno a insegnanti e alunni ben 170 alberi di cui 26 nella provincia di Pesero Orbino di differenti specie autoctone che verranno messe a dimora negli spazi verdi delle scuole e questa era l'ultima notizia vi ricordo che lunedì prossimo in diretta alle ore 21 sempre qui su Fano TV ci sarà primo cittadino con il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli invece tra poco trasmetteremo uno speciale di un noto garden di Fano e dedicato al giardino all'italiana per un Natale in famiglia grazie per averci seguito e buona serata a tutti voi